Buon pomeriggio dal Brondi Stadion, iniziano ufficialmente i play-off della Superliga in 21-22 3-1 per il Copenhagen Brondi sul pezzo, attacca da sinistra Mabil, dentro Ure, lo vede Mabil che crossa, secondo palo Ure al volo, la tocca Lossel, ma non basta perché ha segnato il nostro bomber E' finita, il Brondi vince al Cerespark, in rimonta da 0-2 a 3-2 E adesso ci sarà un'altra gara impegnativa a livelli clamorosi, psicologicamente soprattutto Contro il Midilland perché ne abbiamo vinte 2 su 2, ora c'è la terza, nel giro di quelle due settimane famose Ed è anche la partita che dà il via al girone di ritorno di questi play-off Dobbiamo migliorarci, abbiamo vinto 4 partite su 5 all'andata Perdendo il derby con il Copenhagen E adesso proveremo a fare 5 su 5, perché non lo so dove possiamo arrivare Al primo posto sicuramente no, ma il secondo non è impossibile E intanto la copertina se la prende Schielderup che non ha trovato il gol nelle ultime uscite Ma ne ha trovati 10 precedentemente Ha trovato molti assist che gli hanno permesso di arrivare in doppia cifra anche lì 10 gol, 10 assist in 25 partite Giocatore che è un 10 e che infatti avrà la 10 nella prossima stagione Intanto noi il 30 di aprile affrontiamo di nuovo il Midilland in una partita infinita Ed è cominciata la partita con una pioggia che non mi piace neanche un po' Perché può sembrare una sciocchezza ma ci penalizza tantissimo Il pallone viaggia diversamente e noi giochiamo tanto palla a terra Intanto fallaccio su Schielderup Fallaccio da parte di Evander se non ho visto male su Schielderup Attenzione perché Evander va sotto la doccia Sta diventando una benedizione per il Brondi La superiorità numerica, seconda consecutiva contro una squadra in Super League Perché anche Larus ha chiuso in 10 Seconda consecutiva in una sfida di campionato contro di loro Perché anche all'andata avevano perso un giocatore Parte Ure, altissimo il Midilland in posizione regolare Occhio che va Mikael, occhio che guarda Lossel e si conoscono Ure forte, Lossel questa volta Solbaken, in mezzo solo Ure, lo vede Solbaken Crossa bene pure col destro per Ure Lossel sul palo Schielderup, serve un taglio Palla dentro per Mikael in area Ure, sbaglia Meno freddo del solito Oh, non ci credo mai nella vita Non ci credo mai nella vita Sviacenco, il capitano del Midilland Se l'è fatto da solo E vi sta bene, perché è tutta la partita che ripartono così Col portiere che la dà corta alla centrale Ure che va in pressione Come in questo caso, stavolta Sviacenco se l'è fatta in mano E' tornato dal portiere, in teoria Perché in pratica ha segnato un gran gol 1-0 all'MCH Arena, nel modo meno atteso Ci avviciniamo al tramonto della partita Con il classico possesso del Bromby Quella che sicuramente è stata meno spettacolare rispetto alle altre Ma è un Bromby maturo, saggio Che vince di misura all'MCH Arena Nell'ultimo confronto stagionale contro il Midilland E appena l'arbitro fischia Vi dico anche un'altra cosa Perché il recupero è finito La palla è fuori La partita finisce Il Bromby Passa anche qui In questo momento E' un Bromby super Saiyan E' un Bromby consapevole E' un Bromby che sta raccogliendo Tutte le cose che non hanno funzionato quest'anno Un po' per errori nostri Un po' per Poca maturità In alcune situazioni Un po' perché siamo scarsi E' un po' perché siamo stati anche sfortunati Indubbiamente oltre alle tante partite settimanali Una partita a settimana La fame di trovare il massimo risultato Con i punti a disposizione Direi Tutto perfetto Dagli è così Solo che hanno vinto anche Arus e Copenhagen Quindi l'Arus ci rimane incollata Il Copenhagen rimane a più 6 Sguardo rapido al calendario Perché ci saranno due partite di fila contro l'Alborg Che in questo momento è l'ultima dei playoff Quindi sesto posto in classifica Ma non guardiamo la classifica Prima in campionato come detto Poi giochiamo la finale Di Coppa di Danimarca E' ancora di più lì La classifica non conta nulla Quindi le ultime tre Due scontri diretti Larus per staccarli In classifica Ma prima bisogna battere l'Alborg E poi il Copenhagen Per agganciarli E' il sogno E' l'ultima L'ultima contro Il Randers Brandrup Suggerire per Schiederup Vicino anche Ure Servito sui piedi Aspetta ancora Schiederup Guarda soprattutto Solbaken che sta tagliando Palla verticale In area Solbaken Se l'è mangiato Pansu Dentro per Fripp Poi Andersen Si gira e calcia Mirante Occhio a rindio sbagliato Due su due Mecca e Lure Come contro il Mid-Inland Ma incredibile Incredibile Due gol identici E meno male Perché stavamo giocando malissimo In questa partita Vigen Subito dentro A cercare Schiederup Tocco sotto Di Schiederup Mamma mia Un gol Pazzesco Da stropicciarsi gli occhi Ma la palla è entrata per davvero Andreas Schiederup E' questo Due a zero E ci ha fatto bene il loro errore Perché stavamo giocando male Lo ribadisco Adesso siamo a più due E finisce qui Con il secondo Clean sheet consecutivo Del Brombi Due a zero All'Alborg Non capisco la valutazione di 69 Che è un numero che mi piace Ma non capisco comunque Il motivo Anche perché stiamo facendo molto bene Adesso c'è la finale Di Coppa E poi il finalissimo Di stagione Ed eccoci qui Per la finale Della Sibank Pokalen La Coppa Di Danimarca Che arriva in un momento Quasi improprio Perché è ovvio Che il nostro focus Sia Sul finale di stagione Perché abbiamo l'obiettivo Di superare anche il Copenhagen Perché abbiamo il sogno Di chiudere al secondo posto E quindi giocarci Un'Europa più ambiziosa Nella prossima stagione Però Non bisogna dimenticare Che questa partita Potrebbe regalarci Il primo trofeo Ufficiale Sulla panchina del Brombi Un trofeo che Da queste parti Manca dal 17-18 Brandi che ha vinto Sette volte Questa competizione E quindi si punta L'ottava Contro un avversario Che conosciamo Non è il Copenhagen Non è il Midilland Ma se possibile È ancora più pericoloso Proprio per questo motivo Destra ragazzi E fame Schielderup Sta partendo Solbaken senza palla Schielderup prova A telecomandare il lancio Non esce Rin Solbaken in area Sinistro Rin Proprio Solbaken A cercare Rosted Telander anticipa Ma Bill raccoglie E cerca il destro Rin Costretto a tornare indietro Frendrup Fuori Wigen Un buon destro pure lui Calcia Wigen E' l'uomo Della provvidenza E' l'uomo Delle finali L'anno scorso Il gol dell'1-0 Nel match scudetto Alla Norgelland Quest'anno Il gol dell'1-0 Nella finale Di Coppa di Danimarca Evitato qui L'intervento di Bungard Evitato pure quello di Cembe Cosa sta facendo Prip Fino in fondo Prip Rosted Ferreira Prip Occhio che prende ancora Posizione Crossa Mirante anticipa E questo è calcio di rigore Ci hanno graziato Ci hanno graziato E' rimessa dal fondo Secondo l'arbitro E' calcio di rigore netto Fatemi sapere voi Nei commenti Occhio a lancio per Alman Posizione dubbia Si gioca E quindi Makaric Dentro Tutto buono Tutto buono Buonanotte ragazzi Difendo io 1-1 Ure Riparte a sinistra Mabil Il tocco c'è Si accende Entra in area Fino in fondo Mabil Rin Buona lettura da parte di Bungard Che si autolancia E poi va da Ure Brombi tornerà ad alzare il trofeo nazionale E finisce qui 2-1 Per il Brombi Che 4 anni dopo L'ultima volta Vince La Coppa di Danimarca E lo fa Dando il via Ufficiale Ad un progetto Ad un percorso Che culminerà Speriamo Con la vittoria del campionato L'anno prossimo Con un bel percorso europeo L'anno prossimo Intanto L'obiettivo è arrivarci Bene in Europa Al termine di questa stagione E sicuramente Era anche Vincere questa partita Lo abbiamo fatto Non Con una partita perfetta Ma con una partita Che ci ha permesso Di fare un gol in più Sentite il pubblico Campiones Campiones Abbiamo vinto noi Non ha segnato Ure Forse questa è la notizia Ma Magari si è tenuto qualche gol Per le ultime di campionato Per il derby contro il Copenhagen Ce lo auguriamo Intanto però Il capitano Visto che Maxo non c'è E Maxo ha alzato la Superliga L'anno scorso E' pronto ad alzare La Coppa Il Brombi Vince La Coppa di Danimarca La Sidvan Bokalen 21-22 E adesso Coriandoli Festa Musica Birretta tattica Ma poi Campionato Anche perché arrivano delle notizie Dalla classifica Non eccellenti ma buone Eccellente sarebbe stato il pareggio L'8 maggio Tra Copenaghen E Arus In modo che Potevamo staccare sull'Arus E avvicinarci Alla nostra rivale Invece Stacchiamo solo dall'Arus Che ha perso Siamo a più 3 E adesso li affrontiamo Lo vedete Poi avremo anche il Copenaghen La prossima Copenaghen Che affronterà il Midilland Midilland Che sta facendo beneficenza Ma noi ci auguriamo Che perda qualche punto Il Copenaghen Perché altrimenti Non li prendiamo più E poi il 22 maggio Si deciderà Tutto E si parte con Tre cambi Rispetto alla finale Di Coppa Slimane Gammelby E Greve Dal primo minuto Di Grombeck Che è regolare Perché è rientrato Gammelby Difensivamente È molto meglio Di Bruce E allora Ripartenza del Bromby Difensivamente Imbarazzanti loro Corre Solbaken Dentro c'è Mabill Anche Ure Solbaken Da Ure La palla arriva Due volte E poi si salva In qualche modo Larus Ma ha raccolto Slimane Ancora ribattuta La conclusione Si è fatto male Un loro giocatore Che si è sacrificato Ha dato la vita Per salvare Poi lascia Il pallone a Greve Geniale Il tocco di Ure Può correre Matias Fino in fondo Greve Se l'è allungata Poi Greve Ure Si è girato In area Ure Hansen Deve partire Schielderup Non parte Quindi serza Ure Gli porta via L'uomo Solbaken Ure Hansen ancora Non entra il pallone Schielderup Sta arrivando a destra Slimane Fallaccio su Schielderup Fallaccio su Schielderup Inspiegabile E Larus È in dieci Fuori Anderson Ma gli è presa A fast entrate È un episodio in cui A caso fanno queste entrate Vabbè Meglio così Ure Subito Schielderup Che palla di Michael Per Schielderup Addosso ad Hansen Poi Slimane Ure Stop e tiro Palla fuori Apertura Gammelby Superato da Grombeck Occhio a Grombeck Defilato Vuole andare Tocco dietro Mirante se l'è fatto da solo Arus in vantaggio E questo è un po' lo spartiacque Questo è un po' lo spartiacque Perché se perdiamo questa Possiamo dire addio al secondo posto Dentro sempre Ure Secondo palo Schielderup La porta Solbakken Cerca il tocco dentro Ha trovato Slimane Che si gira L'ha messa fuori Non è possibile Non è possibile però Angolo di Bungard A cercare Rosted Sul fondo Parte Slimane Servito Sardin tagli Una sola posizione C'è la seconda Solbakken Cross Ure Non ci credo Non è possibile FIFA Non è possibile Sei fatto male Vicino Schielderup Servito Defilato Con il tocco Mensa Uno a uno Il pareggio del Brombi Al novantesimo Quando siamo sicuri Che non avremo poi tempo Per ribaltarla Il Brombi Continua La sua striscia Di risultati utili Consecutivi Non perde dal derby Contro il Copenhagen Ma È una sconfitta oggi È una sconfitta Perché a meno che Il Copenhagen Non Abbia perso oggi E Perda le prossime due partite Che noi A quel punto Dobbiamo vincere per forza Tra cui una contro di loro È finita Ha pareggiato anche il Copenhagen Uno a uno Contro il Mithilland Questo potenzialmente Mi fa arrabbiare ancora di più Distanze che rimangono invariate E Adesso Se vinciamo col Copenhagen Gli mettiamo pressione E però Potrebbe non bastare Perché loro dovrebbero poi perdere Quella dopo In casa Contro l'Alborg Nel frattempo Pre derby Come all'andata Si fa male Mabil Stavolta sul serio Perché finisce la sua stagione Fuori quattro settimane Significa che le ultime due Le salterà Menzalto a sinistra È la soluzione C'è uno stadio dipinto Di giallo blu C'è uno stadio che sogna C'è un popolo Che è presente oggi Davanti Alla rivale di sempre Per dimostrarsi E dimostrarle Che L'ingiocabilità Che abbiamo percepito Nelle sfide precedenti Contro questo avversario Che ci ha praticamente Sempre battuto Tranne in un'occasione In cui però Al Parken È finita 0-0 Ecco È ormai acqua passata Anche perché ce la giochiamo Con una consapevolezza In più Quella di aver Disintegrato Il Mithilland Tre vittorie su tre Ai playoff Oggi A due giornate dal termine Esattamente a 180 minuti Dal termine Della stagione Vogliamo regalarci Un sogno Potremo anche Non arrivare Alla secondo posto Ma questo derby Bisogna vincerlo Benvenuti Al Brombi Stadion È la penultima Dei playoff E Brombi Copenaghen Porta subito A spasso il pallone C'è Menzassi In mistra Per oggi E per la sfida Contro gli Arambers E non Mabil Che si è fatto male Eccolo subito Kevin Secondo fallo Solbaken Cross lungo Verso Solbaken Ha messo fuori Oikonomu Poi Schielderup Uregira Palla verso Wigen Jonsson Angolo di Schielderup È solo Frendrup No rimontato C'è comunque Solbaken Con il destro Miracolo di Jonsson Ha calciato col piede Debole Non sembrava per niente Debole Poi altro cross Morbido Perure Che dà un bacio al palo E il pallone entra 1-0 Col gol del Bomber Al tramonto Del primo tempo Il cross perfetto Di Schielderup Con i giri giusti Palla morbida Lenta Esattamente come Serviva Per farla passare Per farla arrivare Tra i due centrali Pacino al palo 1-0 Per il Brombi È ripartito Il Copenaghen Con la corsa Di Bill Centrale Lo prova a contenere Rosted Tocco su Falk Dentro per Wind 1-1 1-1 1-1 Pensavo fuori gioco E invece 1-1 Ha pareggiato L'altro Bomber Chembe Morbido Forse troppo Ligen E poi un intervento folle Ai suoi danni Un intervento folle Ai suoi danni Vediamo se Si rinnova Si rinnova E come La tradizione playoff La maledizione Per gli avversari Hai segnato al Brombi Vai sotto la doccia Fuori Wind E Copenagher in 10 Ma visto come è andata Con l'Arus Non esulto Solbaken Dentro sta arrivando Schielderup Lo vede Solbaken Lo cerca Schielderup Palo Adesso il Brombi Stadion Chiede ai suoi Di spingere In questo finale Movimento largo di Solbaken Che viene servito Attacca la porta Solbaken Fino in fondo Occhio al Tekel Su di lui Calcio di rigore Calcio di rigore Calcio di rigore Ure 2-1 Il boato Del Brombi Stadion La doppietta Di Michael Che tensione Perché sul rigore Non si sa mai Cosa può accadere Soprattutto quest'anno Menza Sta fuggendo Ure Palla verticale Per Michael Non esce il portiere Ure fino in fondo Ure Sul palo Il secondo palo Anzi il terzo Perché l'ha preso anche sul gol Dell'1-0 Ure Solbaken Dribbling Tiene in campo il pallone E lo porta su In zona bandierina Perché siamo al 92esimo Manca solo il fischio finale Tutti su Solbaken Che vuole tenerla lì Sono finiti i due di recupero La palla esce L'arbitro fischia Il Brombi ha vinto Il Brombi ha vinto il derby Per la prima volta in questa carriera Il Brombi Di Federico Marconi Batte Il Copenaghen Lo fa l'ultimo tentativo possibile Della stagione E forse Lo fa Il giorno più pesante Il giorno più importante Perché accorcia in classifica Meno 3 A 90 minuti Dalla fine Ah ma subito così C'è anche un po' di Hype Di speranza Hanno vinto Quindi Quindi arriviamo terzi Quindi arriviamo terzi Non possiamo né scendere né salire E vabbè Simuliamola Quella contro il Randers A questo punto E abbiamo perso Abbiamo perso 1-0 Col gol di Klisner A 12 dalla fine Sconfitta in dolore Due sconfitte su 10 partite giocate in questi playoff Mai perso in casa Quindi direi che è un buon punto da cui ripartire Per la prossima stagione La finale playoff E qui onestamente casco un attimo dalle nuvole Perché dal regolamento che conoscevo io La finale playoff Avrebbe dovuto farla la quarta classificata Non la terza Invece la facciamo noi A questo punto non so neanche dirvi Vincendola Se saremo qualificati alla Conference O all'Europa League Ovviamente si parla Presumibilmente di playoff Non so più che dirvi Sono confuso Quindi intanto proviamo a vincere questa partita E poi vediamo che succede per la prossima stagione E comincia La finale playoff Mi raccomando Vediamo di renderla una formalità Vediamo se parte Michele Lo rincorre o poco Ure in area Guarda il portiere Sinistro Fortissimo Per il vantaggio del Brondi Per l'ennesimo gol stagionale Del PCC Direbbero se fossimo in Spagna 8 al novantesimo Accende il motorino Ure Con Felix centrale Anche Schielderup Si è fatto tutto il campo Ure Cost to cost Di un meraviglioso giocatore Fino in fondo Ure dietro Solbaken Game over È finita Ha vinto i Brondi 2 a 0 Ure e Solbaken Il riassunto Dei nostri playoff Eccolo Il fischio finale Adesso La nostra stagione È finita per davvero E adesso È ufficiale Esulta Il popolo Del Brondi Perché il Brondi Giocherà Una coppa europea Nella prossima stagione Ripeto Non so se Europa League O Conference Perché il regolamento Su FIFA Varia A quanto pare Però la certezza È che abbiamo chiuso Col super sorriso Questa stagione Che è stata travagliata Per certi versi Di scontinua Abbiamo avuto difficoltà Nella gestione Delle competizioni Perché Quando c'è stata L'Europa League Prima La Conference Poi di mezzo In campionato Abbiamo faticato tanto I playoff Ci hanno permesso Di concentrarci meglio E di Alzare In questo caso Una coppa Che è quella Della finale Playoff Va bene così Va bene così A questo punto Andiamo Facciamo una bella cosa Guardiamoli festeggiare Nel mente però Godiamoci anche un po' I valori A fine stagione Capiamo chi è salito Chi è sceso Quali sono quelli Da cui ripartire Qui Ure l'alzerà tranquillamente Ma io guardo Mirante Che ha rinnovato Di un altro anno Il suo contratto Quindi sarà con noi anche Nella prossima stagione Mirante che tra l'altro Paradossalmente Come leggete qui È anche sceso È un discorso d'età Mensa Non ha cambiato La sua Il suo valore Mensa che è un giocatore Che deve ancora Un po' essere decifrato Da noi Perché è stato fuori All'inizio Tre mesi Per infortunio grave Poi difensivamente parlando Non ha mai rubato Il posto a Bungard Che invece è uno Che ha fatto molto bene Adesso lo vediamo Offensivamente Ha chiuso Alla sinistra Visto che Mabil Non era disponibile E ha fatto Meglio Nel senso che lì Ovviamente non può fare Danni difensivi Bungard ha fatto bene Più tre Ogni tanto qualche Appannamento Però ci sta È salito Rosted E sono contento Perché Rosted Trova spazio Soltanto grazie All'infortunio Di Andreas Maxo E ne approfitta Perché è stato Un perno lì dietro Ha fatto tutto Molto bene Maxo che non varia Da un punto di vista Di overall Se non sbaglio Un solo gol Per Andreas In questa stagione Ma importantissimo Allo Sparta Praga Nel match Che poi ci ha regalato Il passaggio Al terzo posto E quindi In conference Anziché tornare a casa Gammelby pronto Maturo Saggio Insomma Quando ha giocato A parte che C'ha delle caratteristiche Che non si capiscono Cioè Terzino a destra E può farla alla sinistra È tutto molto bello Difensivamente Un mostro Gammelby Meglio di Bruce Difensivamente Bruce che invece spinge Cresce Di tre Cresce anche Friendroop Che diventa un 74 Ragazzi 74 è tanto Cresce Radosevic Che torna ad essere un 70 Lo era qualche Anno fa Ma adesso Si sta riprendendo Quello che gli spetta È scarso Iaia Duculi Però comunque È un giocatore Che ha trovato Il suo spazio Poco In questa stagione Vedremo cosa fare Con lui l'anno prossimo Però intanto È cresciuto Come vegan Di misura Di uno Va bene 27 anni Ha fatto il suo Ci ha aiutato tanto Slimane anche è cresciuto Lui è partito bene Quando è rientrato Dall'infortunio E poi però È un po' calato Ha finito secondo me Non bene La stagione Capis Non lo posso vedere Proprio Non lo posso vedere Però infatti abbiamo ceduto È cresciuto comunque Schielderup È mostruoso È predestinato Gli ho dedicato un titolo In questa stagione Sale di 4 Diventa quasi un 70 Lo diventerà l'anno prossimo Andiamo rapidi Con Greve Che resta un 68 Non cresce Mabil Che però ha fatto Una buona stagione Cresce Solbaken Arrivato a gennaio Tanta roba Mi è piaciuto Mikael Mikael poteva anche Averli persi i punti Stesso discorso Che avevo fatto per Mirante Chi se ne frega Mostro Mostro E adesso io vorrei Un attimo Le statistiche di Ure Allora Ure fa un totale di 28 gol 18 in Super League 2 in Europa League 2 in Conference 5 in Coppa di Animarca 1 nella finale Playoff 28 totali E' stato fuori 3 mesi per infortunio Cioè 3 mesi per infortunio E' stato fuori Questo pazzo Va bene Cresce anche Felix Cresce Fagir E poi Via via Tutti gli altri Che chiaramente Abbiamo usato meno Vivcovic ogni tanto Il campo lo ha visto Che dire signori Prima di salutarvi Qui E ricordarvi questa cosa Che vi dicevo Inizio episodio Cioè sarò al Bronvy Stadium Per a Bronvy Metinland Ci vediamo lì Con un vlog E qua c'è una situazione Particolare Perché FIFA non ha capito Che il mondiale Si gioca in inverno Quindi noi Prima della seconda stagione Dobbiamo giocarci il mondiale Con la Danimarca E il girone E' molto complesso Fatemi sapere Nei commenti Se volete Il mondiale Con la Danimarca In un video apposito E poi Si parte con la seconda stagione Ovviamente Supportate il video Datemi consigli di mercato Anche per il Bronvy Per arricchire questa rosa In vista della prossima stagione E fatemi sapere Se sapete Che coppa giocheremo In Europa L'anno prossimo Ciao ragazzi Alla prossima E forza Bronvy